Amici carissimi, mi accingo ad assumere la mia dose quotidiana di vitamine e sali minerali, quelle dal mezzogiorno, me ne devo fare conto. Sono qua, sto continuando, il mio sciopero della faccia. Per quale motivo? Perché la verità non è un reato. E il collega ha detto la verità alla trasmissione di Ballarò. E' stato sospeso ingiustamente con una falsa motivazione. I caschi, tutti sappiamo, sono marci. La formazione è insufficiente, gli equipaggiamenti sono inadeguati, l'apparato debilitato dai tagli. I love polizia. I love polizia. Dovrebbero impararlo anche i nostri vertici, coloro che hanno responsabilità di governo e comunque gli amministratori. I love polizia. Ciao, ciao. Grazie.